Buonasera, seconda edizione del Tg Riviera dei Fiori. Apriamo parlando dell'omicidio di Bordichiera. È ricoverato in prognosi riservate, lotta per la vita Santino Putrino, 45 anni, che nella tarda mattinata di ieri ha ucciso a fucilate la moglie Olga Ricchio, 51 anni, e la cognata Franca, di 54 anni. Alla base dell'omicidio la decisione della moglie di separarsi. Prima dell'estate l'uomo praticamente incensurato era andato a vivere via di casa per una settimana, la moglie però poi lo aveva perdonato e ripreso con sé. Sì, avevano trascorso un periodo insieme di vacanza, ma poi nel novembre scorso la crisi si era rifatta sentire. La donna Olga era andata a vivere dalla sorella Franca e lì lavorava poco lontano dalla sua casa. Le liti sono continuate per tutti questi mesi, sino all'ultima, l'ultima, quella fatale, con l'omicidio e il tentativo di suicidio. L'uomo infatti, Santino Putrino, si è presentato a casa della cognata per richiedere alla moglie di ritornare con lui, armato di fucile da caccia, un automatico calibro 12. Alla fine della lite Santino ha imbracciato l'arma e ha prima ucciso la cognata con un solo colpo alla testa e quindi ha rincorso la moglie nella serra e qui l'ha raggiunta con due colpi che per la donna sono stati fatali. Quindi ha rivolto l'arma contro di sé e si è sparato al torace, avvertendo poi il nipote di avere combinato un grosso paciugo e di essere sul punto di morire. Subito il soccorso è stato prima trasportato all'ospedale di Bordighera e quindi all'ospedale San Martino di Genova dove appunto è ricoverato in prognosi riservata. Su di lui pesa l'ipotesi di omicidio plurimo aggravato. Si occupano dei casi i carabinieri di Bordighera e la procura di Sanremo. Come avevamo già annunciato nella nostra intervista di Natale, il sindaco di Sanremo Maurizio Zuccarato per fine anno modificherà il suo esecutivo, effettuerà quindi l'impasto di giunta per partire con una nuova marcia. Domani si dovrebbe tenere la conferenza stampa di presentazione che però secondo alcuni potrebbe nascondere un colpo di scena. Il sindaco Zuccarato potrebbe dimettersi proprio domani per presentarsi alle prossime consultazioni elettorali e nazionali o nella lista di Montezemolo Italia Futura o in quella dell'Udc, comunque sempre nell'area legata al nome del premier uscente Mario Monti. I contatti sarebbero già avvenuti da tempo a livello romano, attualmente però nessuna conferma a livello provinciale. Domani quindi non sarebbe la comunicazione di un rimpasto di giunta ma di un vero cambiamento. Se il sindaco si presentasse di missionario avrebbe comunque 20 giorni di tempo per ripensarci. I suoi consiglieri avrebbero quindi 20 giorni per convincerlo a rimanere. Intanto il primo cittadino e l'assessore Gianni Berrino oggi sono a Vienna per la presentazione del tradizionale concerto di Capodanno. Una splendida vetrina per i fiori di Sanremo. Domani invece si parlerà sicuramente di politica. L'appuntamento è a mezzogiorno nell'ufficio del sindaco. Ed ora lasciamo la pagina politica per la pagina sportiva. Cambiamento nei coni provinciali. Purtroppo si chiudono le varie sezioni provinciali. Un punto di riferimento per tanti sodalizi sportivi. Ce ne parla il vice presidente provinciale imperiese Angelo Masini. Ci sarà invece del presidente che viene nominato da tutte le federazioni. Ci sarà un delegato che invece sarà praticamente proposto dal presidente regionale. Quindi non ci sarà più un'elezione ma ci sarà una proposta. e questo sarà il nuovo delegato che però non ha nessun potere, almeno per il momento, perché non avrà un ufficio, non avrà nulla. Speriamo che in futuro le cose cambino e che diventino una realtà più o meno come quella Tbala. Perché mancare un comitato provinciale io penso che sia una cosa in negativo. perché anche voi lo sapete benissimo che siete dei grandi sportivi che avete sempre seguito lo sport. Specialmente il comitato provinciale d'Imperia era un comitato che si dava molto da fare, che cercava di collaborare con le federazioni e fare per lo sport molte azioni, molte cose. Era un comitato che funzionava molto bene e quindi ci rimetteranno tutte le società sportive della nostra provincia. Io mi auguro di no, questo speriamo di no. Mancherà un po' di organizzazione, quello senza dubbio. E parliamo delle capodanne, delle manifestazioni natalizie. Vi ricordiamo quello particolare, Cunnovo Cantico, concerti di Natale nelle chiese di Sanremo, il prossimo nella chiesa di Nostra Signora degli Angeli vicino a Piazza Colombo, il prossimo 30 dicembre alle ore 16. Un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo che appunto gira nelle varie chiese sanremesi per portare appunto il messaggio natalizio. Capodanno invece è elettrizzante per quanto riguarda il Casinò di Sanremo, uno sul Ruffo Garden ed uno sul Bierivissi. Sul Ruffo Garden si esibisce il più famoso mentalista italiano Francesco Tesei con l'illusionista Eddie Magick e la bravissima acrobata ballerina Ada Ossola. Conduce la serata Francesco Giorga, una miscela esplosiva. Un gala particolare, ricco di momenti molto allegri, con tantissima musica. La musica è affidata alla Tequila Band con la compagnia di danza BT. Un grande allegria anche nel Bierivissi dove si musica dal vivo, intrattenimento cabaret. Il costo del del veglionissimo al Bierivissi è stato fissato in 200 euro. E sempre divertimento e grande successo per grandi e piccini per la pista di patinaggio di arma di taggia. Ne abbiamo parlato con l'assessore delegato allo sport, Mirko Praticò. Una proposta del comune di Taggia per le feste natalizie è la pista sul ghiaccio. La pista l'abbiamo messa un po' per tutti, per dare un po' di vita. Siamo contenti di essere riusciti anche quest'anno a riproporre un'attrazione che negli scorsi anni comunque ha riscosso un ottimo risultato. Insomma, è piaciuta molto. La pista si fermerà qui fino al 13 gennaio ed è aperta praticamente tutti i giorni. Al mattino dalle 8 a mezzogiorno e al pomeriggio dalle 14-15 fino alle 24, quindi fino a mezzanotte. Vedo che ci sono molti giovani che si divertono, quindi è un bel passatempo. Assolutamente, sì. A proposito stiamo cercando di inserire anche un istruttore. Questo perché c'è stata proprio la richiesta da alcuni genitori perché vorrebbero approfittare di questa pista di ghiaccio e far divertire i ragazzi che ancora non hanno approcciato a questo sport. Quindi probabilmente nei prossimi giorni ci sarà anche la possibilità di prendere qualche lezione e di poter poi divertirsi così nella pista di ghiaccio. Questa è una novità, una novità per tutta la provincia perché è l'unica che c'è a Arma di Tagge. Assolutamente, sì. È l'unica. Siamo stati i primi a proporla, siamo gli unici adesso che continuiamo a mantenerla e tra l'altro quest'anno è molto più grande degli altri anni. Mi sembra che sia sui 30 metri per 15. Quindi siamo riusciti a mettere anche una pista importante, una pista bella dove ci si può divertire. Perché è una cosa che piace ai giovani di solito. Abbiamo voluto proporla. Siete organizzati? Quanto si paga per venire? 5 euro l'ingresso e 2 euro dai pattini. Gli orari? Si entra alle 10 del mattino fino alla mezzogiorno, poi dalle 3 fino alle 7 e mezza, tutti i giorni. Visto il successo che c'è, andrete oltre il 13 gennaio, no? Non lo so, magari dipende dall'assessore, non lo so. Dipende sempre dal comune di Tagge? Sì. Bene, subito dopo il nostro telegiornale, spazio approfondimento dedicato alla riapertura dell'Istituto Boria per Anziani di Sanremo, una struttura completamente rinnovata, nuova alla gestione, è stata affidata alla cooperativa Il Faggio. Ne abbiamo già parlato nel nostro telegiornale, approfondiremo appunto facendo quattro passi nella struttura e parlando con gli organizzatori e il presidente della cooperativa. Tutto questo subito dopo nel nostro telegiornale. Adesso invece parliamo ancora di Natale, di momenti musicali, lo facciamo per Piazza Boria Dolbo con Freddy Colte. Prosegue con il nuovo anno, lo Swing Corner Christmas, questa iniziativa che abbiamo già avviato, ha avuto il suo seguito nei primi tre appuntamenti e il nuovo anno, 2013, vedrà in questi giorni appunto i nuovi incontri, i nuovi concerti aperitivo, giovedì 3 con un ritorno della figura di Lelio Luttazzi che noi ricordiamo naturalmente in questo caso come showman, quindi come personaggio televisivo, non solo come grande musicista. Avremo il Luttazzi Jazz Project che è appunto una formazione speciale che ospiterà il pianista e cantante romano, un giovanissimo artista, Paolo Tagliaferri. E poi chiuderemo sabato 5 con un omaggio a grande Gorni Kramer, fisarmonicista, anche lui personaggio televisivo, conduttore e compositore, con un trio di bolognese che si chiamano i tre negri di Broadway che vedrà appunto un ottimo solista di fisarmonica, Alessandro Zaccheo, appunto per omaggiare questo maestro Gorni Kramer dello swing italiano. In questo modo il centro stanchento nel sultanato dello swing portano a compimento questa idea che ha caratterizzato le feste sanremesi. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario. Adesso abbiamo un appuntamento con il meteo, con Achille Pennellatore e poi subito dopo lo spazio di approfondimento parleremo dell'Istituto Boria di Sanremo. Grazie di seguirci. Gentili telespettatori a tutti, buonasera. Spero che abbiate passato bene il Natale. Ora prepariamoci per il Capodanno. In mezzo a queste due feste abbiamo un intervallo di tempo discreto, ci sono dei passaggi nuvolosi ma purtroppo ci dobbiamo attendere il passaggio di una perturbazione proprio per la giornata di Capodanno, segnatamente tra il pomeriggio e la sera del primo gennaio. Ma c'è tempo per mettere bene a fuoco questa previsione che già vi faccio, ma è bene cominciare già a parlarne. Ecco qua gli annuvolamenti che ogni tanto passano in influenti, qui sulla riera dei fiori lo spezzino e il Savonese, mentre ieri un cumulonembo isolato ha dato un bel tempo ralozzo su Genova. Ieri mattina su Quezzi e Marassi e dalla rete Limeto ha preso circa 38-45 mm, ma solo lì, proprio localizzato lì. Per il resto ha corpi nuvolosi che passano senza interferenze particolari con il bel tempo, discreto tempo che abbiamo. Andiamo alla prima cartina. E per la prossima mezzanotte, gemettiva le a dire, a luna della prossima notte abbiamo questo fronte che passa da nord-ovest. Vedete le isobare si dispongono in questo senso e quindi avremo altri passaggi nuvolosi. Guardiamo la perturbazione da nord-ovest dove sarà 12 ore dopo. Domani alle ore 13 locali avrà già raggiunto la Sicilia, Scilla e Caridi e qua proprio l'Oione, il mare Ionio. E poi c'è questo campo di alta pressione che cerca di rinforzarsi e invadere le nostre zone nei giorni successivi, almeno fino a lunedì. Ma adesso guardiamo la previsione per domani, venerdì, ma facilmente applicabile questa previsione che vedete almeno fino proprio a lunedì prossimo. A parte il mare che sarà in questo stato, come vedete, solamente domani. Ma andiamo con ordine. Cielo generalmente poco nuvoloso, saltuariamente per qualche ora potrà diventare nuvoloso, nuvole innocue, inoffensive, solo a disturbare un po' il soleggiamento o di notte chi vuole guardarsi le stelle. Il vento di domani tra ovest e sud-ovest, forte a largo, burrascoso, 40-45 nodi a largo, sotto costa, ponente di Capomele, 15-25 nodi, localmente 30, allevante di Capomele più debole, non andremo oltre i 15-20 nodi. Di conseguenza mare molto mosso sotto costa sia a ponente che a levante, onda lunga da sud-ovest, addirittura agitato o molto agitato sulle zone del largo, quindi molto a largo, fateci attenzione amici pescatori o chi va per mare, è bene che sappia che il mare avrà questo stato. La temperatura è destinata a diminuire, ma di poco, non di tanto, 1-2 gradi al massimo. Questa previsione, ve l'ho detto, va bene fino a lunedì. Ora guardiamo un attimo quello che ci aspetta per la giornata di Capodanno. Il martedì, bassa pressione in Mediterraneo, saccatura in arrivo in quota, qui dentro c'è una perturbazione che fra il pomeriggio e la sera del primo arriverà sulle nostre zone con piogge e neve in montagna. Un rinforzo dei venti meridionali, scirocco, libeccio, mare mosso molto mosso però, temperature in aumento, diventeranno mete. Grazie a tutti per l'attenzione, a domani sera.